Il servizio è servito, ora toccherà gli esercenti della ristorazione locale, ovviamente i cittadini affamati a approfittarne. Il comune di Tiene ha lanciato di recente la proposta dell'app Click Menu, una piattaforma digitale pensata e creata per registrare i piatti forti di più attività dedicate ai palati dei Tienesi, non solo in realtà facilmente consultabili da PC, tablet o smartphone, con possibilità di prenotare i pasti desiderati e della consegna in modalità d'asporto o con servizio domicilio dove prevista. In questa prima fase l'invito ad accedere al sistema digitale è rivolto a titolari o gestori di ristoranti, pizzerie, trattorie, agriturismo, bar, attività in genere, che prevedano il commercio al dettaglio di prodotti alimentari per il primo anno senza alcun costo a carico dopo il patto tra l'ente locale e l'azienda fornitrice del succulento servizio indispensabile in tempi di restrizioni alla socialità a causa epidemia. Poi toccherà i clienti e i cittadini a saporare la novità e in altre parole testarla non solo con mano ma soprattutto gustandosi le pietanze sul tavolo di casa. A introdurre il senso della proposta, frutto di un'indagine conoscitiva portata avanti in estate scorsa dall'assessore al commercio Alberto Samperi, una nota diffusa a margine della comunicazione e dell'accordo con PicMenu. Tra i settori più colpiti economicamente dalle misure per contrastare la pandemia c'è sicuramente quello della ristorazione, tra distanziamenti, riduzione di posti, limitazione di orario e chiusure temporanee delle attività. L'amministrazione ha perciò pensato bene di mettere a disposizione degli esercizi pubblici del territorio e dei cittadini una piattaforma web volta alla digitalizzazione di alcuni servizi del settore. Un aiuto concreto ai commercianti del comparto e insieme un'agevolazione in termini di tempo e praticità per chi non intende rinunciare a un buon pasto preparato dal ristoratore di fiducia.